cioè se tutto va bene senza ricorsi al Taro e firmiamo domani mattina il primo cantiere lo apriamo all'inizio del 2025 ma com'è possibile questo? ma com'è possibile? vi devo dire con molta sincerità quando c'era il governo Berlusconi a questi livelli di stupidità di arroganza del potere di volontà di accaparramento delle risorse non eravamo mai arrivati onestamente c'era un'altra sensibilità democratica c'era anche un'altra sensibilità estetica diciamo del presidente del consiglio insomma aveva anche altri gusti e vabbè ma insomma uno diceva almeno arrivano le risorse mettiamo in movimento le cose poi qualche balletto le debolezze umane e vabbè a bit